Avviene qualcosa di magico quando balliamo. Tutto si allinea. Il mondo è in perfetta sincronia. E in quel momento ci sentiamo pienamente vivi. Ma per essere ballerini nella vita, bisogna attraversare esperienze non tanto magiche. Rifiuti, paga schifose, audizioni infinite. Fino a sentire che il tuo mondo è tutto in quella stanza fredda. Io sono Alexa Brava. E vi do il benvenuto a The Vortex. Questa è molto più di una semplice gara di ballo. Questa è la resa dei conti. Con il premio più ammiguito. Parteciperanno molte crew, ma soltanto una. Emergerà vittoriosa, vincendo tre anni di strepitoso contratto nella fabolosa Las Vegas. Stiamo selezionando i video delle migliori crew di ballo del mondo. Cerchiamo originalità, creatività, spettacolo allo stato puro. La tua crew merita di esibirsi a Las Vegas. Se è così, mandaci subito il tuo video.